È stata un'esperienza straordinaria, è stata un'esperienza di cui sono straordinariamente contento. Finisce in una maniera molto molto soddisfacente. Tutti noi, anche voi credo, ma tutti noi hanno, come dire, quella che si chiama la buona coscienza del lavoro fatto e questa è la cosa più importante. Quindi grazie anche per questo, per te l'ho imparato. Grazie. È ottimista sul futuro dell'Italia? Come? È ottimista sul futuro dell'Italia? Grazie.